Cosa posso fare? A quali servizi o agevolazione o diritto? Come richiedere questo o quell'aiuto? A chi posso rivolgermi? Sono quesiti che quotidianamente affollano la mente degli anziani lucchesi e dei loro familiari alle prese con la gestione non sempre facile dell'invecchiamento. Ed è proprio per rispondere a queste domande che l'amministrazione comunale, grazie al lavoro dell'ufficio sociale, ha realizzato la guida ai servizi per gli anziani, contenente tutte le informazioni utili per guidare concretamente le persone anziane e le loro famiglie tra i servizi per affrontare le difficoltà o semplicemente cogliere le opportunità in grado di migliorare la qualità della vita dei cittadini anziani. Il tutto in un modo semplice, leggibile e pratico, con un linguaggio che non parli attraverso sigle, ma attraverso le esigenze e le aspettative delle persone, con l'intento di offrire loro un filo rosso che mette in relazione il bisogno con il servizio o i servizi più adatti ad affrontarlo. La guida per gli anziani è una sorta di pronto intervento attascabile per le famiglie e per gli anziani che affrontano la condizione di invecchiamento. Contiene una serie di strumenti utili che comprendono sia i servizi che vengono offerti dal comune che una serie di servizi che sono presenti sul territorio. L'obiettivo è quello di dare maggiore informazione possibile, maggiore accessibilità ai servizi e alle opportunità e soprattutto quello che il comune si è dato, appunto, di non far sentire nessuno di peso, di non far rimanere indietro nessuno e di includere tutta la popolazione nei servizi e nella propria azione. La guida ai servizi per gli anziani verrà pubblicata anche sul sito del comune di Lucca e verrà distribuita sul territorio, nei centri di urni, negli uffici comunali e patronati, nelle parrocchie, all'ospedale, nei presidi ospedalieri sanitari, con l'obiettivo di raggiungere il numero più alto possibile di persone.